Buongiorno, sono Rosana Petit Jacques, qui da Biona, e gestisco il rifugio Prarayet dal 1988. L'abbiamo aperto, quindi sono più di 33 anni, lo gestisco insieme ai figli, alla famiglia e a conduzione familiare. Il rifugio ha alcune camere matrimoniali, 3-4, e delle camerette con il letto e castello da 6 posti, un paio di cameroni per le compagnie un po' più numerose. È situato in un bellissimo posto, io lo chiamo un angolo di paradiso, perché si trova in un posto molto tranquillo, con tanti prati, boschi, abbiamo la tiga, che poi è un'attrazione molto importante della nostra zona, della Valpelina, di Biona, e quindi abbiamo questa fortuna. Il nostro rifugio si raggiunge molto facilmente, facendo una bella passeggiata lungo il lago, facile da fare, quasi per tutti, anche per passeggini, per famiglie e per persone che non fanno delle grosse camminate di solito. La nostra cucina è una cucina semplice, casalinga, preferibilmente con prodotti del luogo, e poi diciamo che qualcosa in più abbiamo fatto, perché abbiamo messo i figli, più che altro l'idea loro, hanno messo la sauna e l'idromassaggio, che è un qualcosa in più, un servizio in più, che vedo che ai clienti tutto sommato piace.